le trappole sono pronte la morte sta per arrivare devo guadagnare tempo ecco un altro percorso sbarrato assieme a loro si avvicina anche la vostra morte chiusa chiave la vostra fine si sta avvicinando inesorabili le armi biologiche di questa ricetta sono una minaccia per il mondo la vostra morte sarà un'ulteriore prova controllo per favore pensateci bene non dovete farlo per forza come se questo potesse non posso restare con le mani in mano e lasciarvi posso occuparmi nello stesso ho previsto ogni vostra mossa no ci sono più sopravvissuti di quanti avessimo è incredibile che siate arrivati finché tuttavia devo eliminarvi una volta per tutti accogliete la vostra morte non c'è non c'è Devo per forza intervenire io. Assieme a loro, si avvicina anche il bastano. Riuscirò a trovarlo. Ma... ma gli estremi? Estremi rimedi? Siete pronti? Queste creature non dovevano esistere. Perlomeno, saranno... William, puoi ancora aiutarmi? Sei un passo dall'amore. Orraele. Non so che sarebbe successo se non fosse... Questo non fa altro che sancere il mio innamorato. Su, arrendetela. Io ne ho altri. Potrete anche prendere la tessera. Ma ci sono altre sfide ad attenuare. Accogliete la vostra morte. Non so che prendere la porta. Dai! Cerco di vedere qualcosa. Le armi biologiche di questa ricerca sono una minaccia per il mondo. Vostra morte sarà un'ulteriore prova. Non so che prenere il mondo. Non so che prendere il mondo. Non so che� di essere. Non so che prendere l'albero di questa ricerca. Nel post. Non... Non so che ne sono ancora mai. Non so che prendere il mondo. Non so farlo. Non so che prendere il mondo. Il successo è trascurabile, direi. Non montatevi la testa. Diamo un'occhiata. Forza di intervenire. Ho previsto ogni vostra mossa. Ole! Mi sorprende che siate arrivati fin qui. Serve un cambio di strategia. La vostra fine si sta avvicinando inesorabile. Queste creature non dovevano esistere. Perlomeno saranno... Parca, mi servono munizioni. Assieme a loro si avvicina anche la vostra morte. William, una volta eliminate le tracce del nostro passaggio, potrai riposare anche tu. Non mi avrete. La vostra fine si sta avvicinando. Uff! Grazie a tutti. Grazie a tutti. La vostra fine si sta avvicinando inesorabili. Un metodo barbaro, ma sono certa che andrà tutto bene. Servono munizioni. Diamo un'occhiata. Su, arrendeteli. Questo è per quanto hai dimenticato il mio compleanno. E' un'occhiata. Deve essere qualcosa di utile qui. Uno di voi ha visto la luce. Un'occhiata. Arrendetevi. È davvero ora di finire. Una volta per tutti. Basta! Arrendetevi! Mettiamo la parola fine a questa storia. Non avanzerete oltre. Non male! Ma che piano perfetto! Il tempo ci priva di ciò che amiamo. Un'occhiata. 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 Un'occhiata.